via alta nuova del pronti via madonna se si scatona ma di bestia anche vai alla grande l'ho appena detto si sgattona di bestia ma proprio tanto la facciamo arrosto l'ho appena detto l'ho appena detto lì e avanti appena partiti pronti via avanti oggi la vedo difficile almeno eh ma è stato il telefono che ti ha picchiato dentro scolta io là prima del ponte ho fatto uguale è solo che è stato via dritto qua invece rincurva zacca te via e una va beh la moto è a posta pilota anche che 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 Grazie a tutti.